Previsto per questa sera, 19 settembre alle 21 in Corso Umberto, il concerto dei Cantamuri che rientra nel cartellone del Settembre Nisseno. Il gruppo dei Cantamuri è una formazione nissena ed è composto da Deborah Di Pietra alla voce, Luigi Amico al violino, Roberto Macri al pianoforte. Il gruppo è di recente formazione ma i componenti vantano una lunga carriera professionale di concerti e manifestazioni musicali di vario genere. Il concerto è realizzato grazie al patrocinio del Comune di Caltanissetta e in particolare dell'assessorato Creatività e Partecipazione.